Un film che parla di scienza, energia, amicizia, comunque io sono Roberta, io sono Benedetta, ma tu sei quel Roberto? Nemici. Riconoscerete che non è mica negli interessi di una multinazionale come la nostra farsi perdonare l'espressione e fregare da un ragazzino? Che schifo se potessimo risolverlo. Comunque stavo dicendo, vorrei creare un ottimo di energia. Comunicare che l'altra scelta è colpecata. Comunicare che l'altra scelta è un'altra scelta, un'altra scelta è un'altra scelta.